buongiorno e buona domenica e io sono sveglia dalle 10 mentre vacca si è svegliato a mezzogiorno abbiamo pranzato e stiamo per uscire per andare in giro anche oggi qui a barcellona e siamo tornati qui dove c'è la sagrada famiglia e adesso facciamo due foto da questa vista qui che è la vista migliore come avete visto siamo stati sul bus turistico abbiamo fatto un bel giro di tutta barcellona abbiamo visto tantissimi dei posti delle attrazioni della città ora siamo sulla rambla e la stiamo percorrendo per arrivare al monumento colombo eccoci qui questo è il monumento per cristoforo colombo e lui è questa statua qui tra poco saliamo lì sopra siamo entrati dentro la struttura dobbiamo andare a prendere quell'ascensore qui in fondo fa un po' paura questa cosa è altissimo fa paurissima ragazzi siamo scesi appena da quella vista meravigliosa che avete visto io ve la consiglio costa pochissimo e se siete a barcellona conviene venire a vedere la città dall'alto da quel monumento bellissima e adesso io e vacca entriamo in questo bar qui è proprio sulla rambla c'è il museo della cera c'è tutta la parte dedicata a star wars oh mio dio ragazzi qua c'è frankenstein vi giuro che questa sala fa paurissima non renderà nel video ma fa paura il museo delle cere bellissimo carino insomma se vi piacciono queste cose andateci è un po' diverso dal solito c'è molta storia e ci sono cose che fanno un po' paura diciamo la verità guardate che bella questa zona piena di graffiti e gente che va con lo skate in realtà non tante persone vanno con lo skate però è veramente piena di gente bella 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 io adoro queste cose siamo a carrer de blais ed è una via piena di locali per i pinchos e per le tapas e noi adesso ci fermeremo in un locale di questi ecco qui tutti i nostri pinchos le birre adesso mangiamo finalmente le tapas spagnole ora in questa piazza dove siamo finiti a raval di la rambla del raval c'è questa scultura di questo gatto il gatto di botero buongiorno buongiorno vacca buongiorno caro e andiamo in questo posto sembra di essere in un film è veramente bellissimo e particolarissimo cioè bisogna avere trami l'occhi per vedere tutto tutte le decorazioni ragazzi sto bloggando veramente poco ma perché fa freddissimo oggi abbiamo fatto un giro a grazia un quartiere molto bello e adesso siamo in cerca di un bar perché io voglio prendermi assolutamente una cioccolata calda tappa da starbucks perché fa troppo freddo ho preso il caramel macchiato di starbucks ci siamo diretti qui all'acquario di barcellona ciao ciao Grazie a tutti.